ragazzi girando e rigirando una nuova stazione di aglio orsino una quantità mai vista nemmeno l'anno scorso che c'era dappertutto guardate che roba è a perdita d'occhio incredibile morchelle non ne vedo perché è secco ma insomma anche dove non è proprio così secco però non ci sono può essere che non siano ancora uscite è possibilissimo ma guardate l'aglio orsino quanto ce n'è ragazzi è a perdita d'occhio cioè è interminabile pieno è pieno certo guardate che roba vedete tutto sto verde e tutto aglio orsino un posto dove l'anno scorso ero venuto ma da questo lato non ero passato e non sapevo ci fosse una quantità del genere di aglio orsino vedete pigginator inquadrata sì sì ce n'è una quantità industriale guardate che roba guardate guardate che quantità mostruosa mi sono già sgranocchiato un po di foglie perché buonissimo incredibile ragazzi qui c'era una fornitura da tir mamma mia e chi lo sapeva che c'era questa quantità di aglio orsino anche qui guardate guardate è pazzesco è che tappeto ragazzi qui veramente viene da spararsi in testa incredibile ovunque ovunque guardate orsinetor